Lavoriamo con la Conferenza delle Due Valli, che è un'associazione di territori con cui collaboriamo da più di vent'anni. Questo ci ha facilitati nella presentazione del progetto trasfrontaliero all'Europa. Le ricadute per il nostro territorio, oltre al fatto di lavorare insieme e quindi di conoscersi meglio, sono lo scambio dei metodi di lavoro, l'ottenimento dei finanziamenti, fare dei test da una parte della frontiera sapendo quel che succede dall'altra parte e soprattutto di lavorare insieme. Penso che nell'ambito dei rischi naturali, del traffico, dell'isolamento dei piccoli comuni montani, dove i servizi pubblici diminiscono, i problemi siano gli stessi, in Italia e in Francia. Perché dunque non servirsi dell'esperienza di un piccolo comune montano piemontese, da noi in Francia, nella Maurienne, nel Queras e nella zona di Brianson?